Don Andrea Gallo è morto come voleva, nella sua Genova, dove era nato, nelle stanze della comunità di San Benedetto del Porto che aveva fondato e dove negli ultimi giorni ha voluto far ritorno quando ha capito che il suo tempo era finito. Per lui era il luogo dell'anima, dove ha predicato il suo Vangelo di strada. 84 anni, una vita in prima linea dalla parte degli ultimi, un religioso schierato con gli emarginati e che fossero immigrati, prostitute, tossicodipendenti o lavoratori precari a lui poco importava. Anche per questo lo hanno chiamato prete rosso, prete partigiano, per il suo impegno sociale le mille battaglie civili. Don Gallo è sempre stato controcorrente, icona dei movimenti antagonisti perché ha sfilato in corteo con pacifisti e antiproibizionisti. Amico di artisti, rockstar e cantautori, primi tra tutti i genovesi, Fossati, Gino Paoli, Fabrizio De Andrè. Negli ultimi mesi lo abbiamo visto sul palco con Vinicio Capossela, pregare per il lavoro, sventolare una bandiera tricolore e nella sua chiesa cantare Bella Ciao. Un prete cristianamente anarchico, un salesiano dall'indole rivoluzionaria, per 50 anni lontano dalle gerarchie della chiesa, spesso trasferito da una diocesi all'altra. Se fate l'amore usate il preservativo, ha detto, scritto e ripetuto. Io so che all'oltre lancio dei messaggi, sono come pietre che bruciano la mia mano e io le lancio. Dare la parola ai poveri, ha cercato di farlo per tutta la vita, anche per questo a Don Gallo piacevano Papa Francesco e il nuovo corso della chiesa. Quasi in punto di morte ha ricevuto la visita del Cardinale Bagnasco, come una riconciliazione di cui è stato contento. Su Twitter commentava la politica, abbiamo bisogno di un marxismo umanista e un cristianesimo liberatore. A Grillo, che guardava con simpatia, ha scritto, non fare il padre eterno, e all'ex ministro Fornero, non siamo schizzinosi, siamo senza futuro. Non uccidete il futuro dei giovani, è il titolo di uno dei suoi libri più conosciuti, ma il suo testamento forse è proprio in un tweet. Ai giovani dico, continuate ad agitarvi, organizzarvi, studiare, abbiamo bisogno di voi.